I risultati che abbiamo ottenuto saranno sicuramente completati da questa operazione importante su quella fascia della popolazione a cui teniamo in particolar modo. Dopo aver concluso la prima fase dello screening di massa per il Covid-19 a San Salvo, con 5.807 cittadini che hanno effettuato il tampone e 13 test positivi da accertare attraverso i molecolari, da domani si darà il via ai test sulla popolazione studentesca in collaborazione con la presidenza dell'Ommin Comprensivo della città. Domani cominceremo con via Scopelliti e lo screening sarà per tutti gli studenti che frequentano il plesso di via Scopelliti. Giovedì saranno interessati i due plessi di via De Vito e di via Melvin Jones, ovviamente solo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, mentre venerdì e sabato toccherà agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, quindi del liceo, dell'ite e dell'istituto professionale. Tutti i test si svolgeranno presso le palestre dei plessi, dove allestiremo tre punti di accettazione, con ovviamente il supporto del personale medico dell'ASL e del personale amministrativo della scuola, che ringrazio. La partecipazione è volontaria, come spiega il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che però invita i genitori degli studenti a firmare il consenso informato affinché si possa procedere ad effettuare il maggior numero di tamponi possibile agli studenti. Una fotografia importante che deve essere scattata anche nelle scuole, non solo perché la popolazione scolastica è una popolazione a cui teniamo tutti, ma anche perché per fortuna nella nostra città è abbastanza corposa. È un atto di responsabilità e di civismo nei confronti della propria comunità scolastica, della propria comunità cittadina e della propria famiglia.